Omen, don, doucheur e pre-caldana. More in più di una che le farà parlare per una settimana. L'altra sera una telefonata alla Malassade Giazzi. Non sapevi chi si è sposto. No, chi l'è? Uscuazza. O madonna, l'era il fio dei sentimenti. Sperai che abbia almeno un ripensamento. Se che salta il mail, lasciate mai un signore. E' una cara donna, chiedeva un fio. Ma stai capì? E se sposa, sì. Ma come sono i miei? Piuttosto che per via di questa storia la traimpeggi di lei. Un sacro, già una volta passa, ma non l'ho mai sentita. Come la fai a fare questa soltita? Sarà stai tutto un inghippo. Un sogno in spi. E invece no. Le nai a differenze. Le stai esci perché oggi hanno le un'onde sentimenti. E' ancora l'ora? La dov'è città? Sì. Senza neanche a fiadare. Perché alla fine, bello che sia, me scusate un po', piuttosto che tra il vino. E poi ne ho un capitale che rende. Non ci fai da noi a non girare. E allora circa un mese fa, oggi, e il paese l'ha incominciata a Stefano, a costo dell'Andy Space. L'ha invitato di suoi amici e vorremmo davvero intervenire. Ma a quel punto intervengiu la Laura e l'ha detto proprio di... No! Anzi, l'ha detto, che sei proprio mati di un copo. Allora, l'ha incominciata a dire che vorremmo la funzione ingegna. Proprio di lui. E poi, in un anno più grande, si scenderebbe prego in scesa. Alla fine, la Laura non poteva più. L'ha detto, fa qualche teore e saremmo lassù. Allora, l'ha detto, l'ha detto fino a Caldana e l'ha cominciata a traire il pezzo, la mattana. Al dolcentino l'ha comandata la Mesa di Sporos per pochi intimi, ma incaparicchiosi. a Caldana e le fiori la comandata dice no. E mi dice, come l'ha detto? Basta parlare. Solo. Vatti via, spena, mi daga roba fina. E allora, e lascia a fare dei miei su scuovazzi che fa la gente. Ma basta, è finito. Vedete una volta. E poi, no, 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 no. Grazie. Grazie.